L'occhio sul mercato di Giorgio Perinetti deve dividersi come sempre tra entrate ed uscite. Se le seconde non condizioneranno le prime, è pur vero che le trattative vivono di porte girevoli e di occasioni che gli altri sono pronti a soffiarti. È il caso della difesa con i nomi appuntati da Perinetti che potrebbero ingolosire legittimamente anche gli altri attori della Lega Pro. Golemic, ad esempio, naviga sull'asse Crotone-Avellino-Catania, mentre Marrone piace a sua volta proprio al Crotone. Contec sarebbe più semplice avendo già dato il suo placet al trasferimento ed avendo il suo procuratore già parlato. Con Giorgio Perinetti, Chiosa avrebbe chance, ma tutto dipende dai piani dell'Entella. A proposito di porte girevoli, non si può negare che l'uscita eventuale di Plescia possa smuovere qualcosa anche in avanti, favorendo il gioco delle coppie, ma la corte all'attaccante sono in pochi a farla. Ci sarebbe il Messina che al momento non esce allo scoperto. Per Casarini, passando al centrocampo, ci sarebbe ancora il Piacenza, ma il dialogo con i procuratori non procede. Tutto fermo per Ilianes e Canutè ed ancor più per Tuncara, che continua a rifiutare le seppur minime proposte che arrivano. Intanto Rizzo, che pure è sul mercato, ieri si è aggregato ai compagni a Palena, tentativo di mettersi in mossa e trovare squadra per provare nel prossimo campionato a mettere minuti nelle gambe.